buongiorno bella gente bentornati nel mio canale scusate la voce ma sono molto raffreddata e quindi questo non mi impedisce di farvi il video del mercoledì dunque oggi invece vi porto dei cerotti detox per il nostro corpo sono dei cerotti che conosco da qualche anno quindi oggi ho deciso di farvi un video dimostrativo o tutorial come si usano e cosa servono questi cerotti la funzione del cerotto detox è quello di aiutare l'organismo a liberarsi delle tossine e delle materiali pesanti accumulati nel nostro corpo durante il giorno in generale si tratta di cerotti da applicare sotto il piede sotto la pianta del piede durante le ore notturne e da rimuovere il giorno dopo appena svegli i cerotti sono ricchi di principi attivi sostanze che dovrebbero aiutare a rilasciare le tossine nocive e purificare il nostro organismo dunque io lo vado applicare in questo modo qua quelle che ho comprato dall'ultima volta io i cerotti i primi che ho comprato lo comprati da druni non l'ho più trovati che erano bellissime tra l'altro avevano diversi funzioni e avevano diversi erbe invece questi qua lo comprati sinceramente da amazon ho un pacco da 10 quindi sono cinque usi sotto vi lascio il link di questi che ho comprato e vi lascio il link di alcuni che avevo comprato durante il corso degli anni comunque se vi piace questo video se vi piace il mio video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e comunque i benefici che si ottengono e di conseguenza sono notevoli e numerosi l'azione purificante di cerotti detox per i piedi aiuta a combattere la depressione stanchezza fatica ansonia parassiti pressione alta e pressione bassa nelle donne e comunque il giorno dopo quando lo togliete via io l'uso lo applico proprio appena prima di andare a letto e li tolgo appena sveglia comunque ha un odore fortissimo quando lo togliete e dovete andare a lavarvi i piedi perché un odore fortissimo come vedete il cerotto è scuro e ha un odore veramente sgradevole ma tutte le volte che ho utilizzato è sempre stato così probabilmente toglie via tutte le tossine è una usanza sono dei cerotti orientali cinesi che loro ci credono tantissimo se disintossicare il corpo e dai piedi quindi bella gente se vi piace questo video se vi piacciono i miei video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e ci vediamo domenica alle 12 con un video nuovo ciao bella gente